Per lei Grazie Pagine utili Più che utili Geniali Cosa c'è? Cosa desideri? Non dirlo, vuoi un mazzo di fiori? Un idraulico? Una festa di compleanno? Ci sono! Un bel abitino classico, sportivo, originale Vedi, su pagine utili trovi quello che vuoi Intanto vorrei una lampada Ma perché non l'hai detto subito? Questo è il mio negozio preferito Pagine utili Più che utili Geniali Geniali